Rimini, città del divertimento, del mare, soprattutto nel periodo estivo. Da oggi fa da cornice a questo tanto evento atteso mondiale di danza sportiva organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva in collaborazione con Rimini Fiera e il Comune di Rimini. Proprio all'interno dei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini sono passati quest'anno ad otto. Contro i sette della passata edizione si è alzato il sipario sulla tanto attesa manifestazione i campionati italiani di danza sportiva. Ad aprire la competizione giorno 7 luglio sono state per il padiglione marrone le danze freestyle e a rappresentare la Sicilia i pluricampioni regionali della scuola di ballo New Planet Dance diretta da Nicola Baglivo e Luigi Ristuccia. Grandi soddisfazioni per i due gruppi, uno di latino e l'altro di hip-hop che hanno conquistato tutte le finali nelle discipline sincro-latine, moderne, coreographic e show dance dopo aver appreso la clamorosa notizia di aver passato a pieni voti i turni di eliminatorie intorno alle ore 19 si è cominciato con le premiazioni che hanno lasciato gli atleti nisseni senza fiato il gruppo over 16 latin è formato da Strazzeri Giulia, Bianchi Angelica, Riggi Gaia, Zagarella Francesca, Guerreri Martina, Marchese Andrea e Piro Chiara. Alla loro prima esperienza a livello nazionale hanno conquistato il titolo di vice campioni italiani nella disciplina show dance, medaglie di bronzo in sincro-latine e in quinto posto in coreographic dance. Glamoroso successo per la crew di hip-hop pixel già esperienti in competizioni a livello nazionale riescono a stupire la platea conquistando ben tre medaglie d'oro nella disciplina sincro-modern, coreographic e show dance nelle quali Mulero Sella, Capuzzo Giorgia, Orlando Jessica, Carmina Melania, Giardina Giuseppe, Baio Mazzola Michele e Miraglia Andrea sono riusciti a conquistare il parere favorevole della giuria ottenendo il titolo di campioni italiani 2014 per ben tre volte. Adesso i pixel crew passeranno per merito nella classe superiore, classe U, avendo la possibilità di gariggiare anche a livello internazionale.